CNA Piacenza ha rinnovato i propri organi dirigenti che sono stati presentati oggi a Villa Giarona di Ponte Nure. Nessuna sorpresa al vertice dell'Associazione Piacentina, Dario Costantini sarà il presidente per altri quattro anni. Cosa significa essere presidente di CNA in questo particolare momento storico? Significa dovercene a mettere tutta perché a memoria di tutti i presenti qui questa sera questa è la peggior crisi che abbiamo mai vissuto. Significa però conoscere tanti imprenditori capaci come ho conosciuto io in questi anni che ti fanno venire la voglia di lottare per loro perché io credo che le persone che vedete alle mie spalle siano la speranza del nostro territorio. Ha fatto visita al gruppo piacentino anche il numero uno regionale di CNA Paolo Govoni. Anche egli si è soffermato sul particolare momento della piccola media impresa del nostro territorio. I dati sono pesantissimi, la crisi si è aggravata, non si vede una via di uscita. Quindi c'è una crisi che se non trova contrasto rispetto a riforme e alle istituzioni che riescano a trovare la via nuova della crescita per le imprese certamente si aggraverà nei prossimi mesi. L'ultima riforma per il pagamento dei debiti da parte della pubblica amministrazione non sta ancora dando i frutti sperati? No, ha creato tante aspettative purtroppo però gli esiti non sono quelli sperati. Le risorse sono poche e i percorsi per arrivare ad avere queste risorse sono tortuosi. Tutti gli eletti dell'Assemblea di CNA sono presenti sul nostro sito internet, liberta.it.